Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Campania in zona di rischio gialla, è ufficiale dopo la conferenza stampa tenuta ieri dal Premier Conte. Da domani coprifuoco alle 22, ma restano dubbi sulle misure abdottate, per molti troppo blande. E a riguardo abbiamo ascoltato i cittadini di Torre del Greco, che manifestano preoccupazione per queste misure. Per molti la Campania doveva essere in zona arancione. Facciamo il punto sul Vesuviano, ieri un morto a Torre del Greco e due morti a Castellammare e in Sabbia. Uno di questi due è un medico che ha contratto il virus proprio per curare i suoi pazienti. E il nostro approfondimento con Marco Caterino, figlio del professore Francesco Caterino, morto per il Covid. Rabbia e dolore nelle parole del giovane nel raccontare il calvario vissuto dal padre e dalla famiglia. In conclusione la cronaca, sei arresti dei carabinieri, i sei indagati avevano pestato a sangue un altro uomo. Il motivo dovrebbe essere una donna legata ai clan. La guardia di finanza ha invece sequestrato 140 kg di sigarette e di contrabbando. Questo e molto altro nei nostri servizi. La campagna rientra, a sorpresa di tutti, nell'area di rischio gialla. E' quanto confermato ieri sera in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte. Il nuovo DPCM, firmato la sera del 3 novembre, ha diviso le regioni italiane in tre fasce di rischio differenti, indipendenza dalla gravità della situazione epidemiologica. Ogni fascia ha limitazioni più gravi, fino ad arrivare alla zona rossa in cui è stato istituito un vero e proprio nuovo lockdown. Su queste premesse era evidente che la campagna sarebbe rientrata nella zona arancione, con rischio alto, tendente alla zona rossa. Ancora ieri, la nostra è stata la seconda regione in Italia per numero di contagiati e gli ospedali del territorio sono sotto sforzo da settimane. I gestori di bar e ristoranti avevano annunciato la chiusura, molti sindaci avevano già intimato i cittadini di non uscire dal territorio comunale. Tutte misure imposte nelle aree ad alto rischio. Ieri sera l'ha smentita, la campagna rientra nella zona a basso rischio. Le uniche regioni arancioni sono Puglia e Sicilia, con numero di contagi nettamente inferiore. Mentre la temuta zona rossa riguarderà Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta. La divisione è stata fatta, come lo stesso Conte ha spiegato, sulla base di 21 punti di analisi, che non comprendono solo il numero di positivi e dei posti letto disponibili. Questi fattori verranno analizzati settimana per settimana dal Ministero della Salute. Sulla base di questi raffronti, le regioni potranno cambiare zona di criticità in caso di aggravamento o di miglioramento della situazione sanitaria. Pertanto, le nuove limitazioni in campagna, che partiranno domani 6 novembre, saranno le seguenti Coprifuoco, quindi di vieto assoluto dei spostamenti anche all'interno del territorio comunale, dalle 22 di sera alle 5 di mattina. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, fatta eccezione per farmacie, negozi di alimentari e tabaccai al loro interno. Chiusura di musei e mostre, riduzione della capienza di tutti i mezzi pubblici fino al 50%, chiusura di sale giochi, sale scommesse e bingo, come già disposto la settimana scorsa. Chiusura di bar e ristoranti dalle 18, con possibilità però di continuare a lavorare con l'asporto fino alle 22, scuole secondarie e università chiuse ed integrate con la didattica a distanza, ma medie ed elementari aperte. Su questo punto però il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha già tuonato, annunciando una nuova imminente ordinanza per tenere chiuse tutte le scuole del territorio. Il governatore ha anche criticato il DPCM, definendolo poco incisivo ed insensato. Il governo questa volta si prenderà le responsabilità delle sue scelte sbagliate, ha scritto ieri su Facebook il presidente De Luca. Stranamente concorde con il governatore anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Siamo sconcertati e preoccupati, dichiara il primo cittadino. La sanità napoletana e campana è al collasso. Misure troppo blande, la campania doveva essere arancione. È l'opinione prevalente dei cittadini di Torre del Greco dopo l'annuncio di ieri sera del Premier Conte. In molti si aspettavano che il nuovo DPCM attribuisse alla nostra regione un livello di criticità alta, con relative misure più restrittive, ma nonostante i numeri alti, la campania resta nella fascia di rischio più bassa. Abbiamo ascoltato le opinioni e le preoccupazioni dei torresi. In pochi, fra gli intervistati, sono realmente sollevati e rassicurati dalle nuove misure. Campania zona gialla, quindi con rischio basso. Cosa ne pensa? Cosa ne pensi? Che qua siamo un disastro. Non per quanto per me, per tanti giovani, ragazzi, negozi, ci stanno mettendo in croce proprio una cosa spaventosa. Io non lo so più cosa vuoi. Ecco qua, mi vado a comprare per finire le mascherine per sopravvivere qua. E fra poco mi mancheranno pure i soldi per comprarmi le mascherine. Qua nessuno ti aiuta. Questo è il problema. Fanno solo chiacchiere, chiacchiere, ma non si risolve mai niente. Non sono per niente d'accordo. Quindi pensa che le misure non siano sufficienti? Assolutamente no. Per me è l'arancione la zona. La Campania in zona gialla, cosa ne pensa? Che dovrebbero fare l'arancione. Quindi pensa che le misure non siano sufficienti? No. E' preoccupata? Molto. No, non sono preoccupata per le misure, anzi, mi aspettavo di peggio. Spero che questi ragazzi comunque bisogna avere, dobbiamo dire, il governatore che dice per farli ritornare a scuola? Che almeno loro, insomma, stanno più sereni, insomma, vivono una vita sociale diversa da quella da casa. Speriamo in bene. E pensa siano giuste per contrastare l'epidemia? Non direi. Per contrastare l'epidemia, secondo me, dovremmo stare tutti a casa, perché in ogni caso comunque ci sta un pericolo di contagio. Quindi così si rischia lo stesso. Un'ottima soluzione. Si può fare. È un buon compromesso, sperando che rimanga tale. Quindi pensa che le misure siano adeguate alla situazione epidemiologica? Sì, con un po' di buona coscienza da parte di ogni singolo cittadino e con una buona amministrazione oculata si può andare avanti così. Campania da ieri in zona gialla, cosa ne pensi? Beh, penso che forse la misura è stata un po' troppo cautelativa. Cautelativa nei confronti dell'interesse politico, penso. La situazione qui è grave, è pericolosa e penso che meritavamo almeno la zona arancione. Quindi sei preoccupato per le nuove misure? Sono preoccupato per le nuove misure, le ho viste un po' blande. Penso che il Ministero della Salute abbia messo in campo un criterio oggettivo che permette alle varie regioni di entrare nelle varie zone. Ci fidiamo del Ministero della Salute, ci fidiamo del CTS, quindi speriamo di non aggravare la situazione, speriamo di rimanere sempre nella zona gialla e quindi che non dovremo assistere a nuove chiusure. E speriamo che la cittadinanza si renda conto che se effetto è il proprio dovere, diciamo la condizione non peggiorerà e non andremo nella zona né arancione né tantomeno la russa che è abbastanza pesante come cosa. Quindi non sei preoccupato per le attuali misure? No, non sono preoccupato nel senso che pare non sia cambiato nulla in Campania. Poi aspettiamo venerdì che è il giorno in cui De Luca emana le ordinanze per capire cosa sarà integrato rispetto alle misure. Non è che io non sono preoccupato delle misure, io mi fido di chi ci governa e io sono preoccupato del fatto che potremmo arrivare forse a Natale in una condizione in cui dovremmo assistere a misure più restrittive che potrebbero essere per il commercio locale un vero dramma. Questa è la mia preoccupazione. Non sono d'accordo con tutte queste problematiche che abbiamo, non mi sembra il caso, dovevamo fare qualcosa in più. Infatti De Luca lo ha detto a chiare lettere. Quindi lei è preoccupato per le nuove misure? Sì, sono preoccupato. Naturalmente sono condizionato anche dal risvolto socio-economico. Però in termini di salute sono preoccupato. Continuano ad aumentare i casi di contagio nel Vesuviano. 23 ulteriori casi di positività registrati ieri a Torre del Greco, con 4 cittadini guariti. Bilancio che si aggrava con un nuovo decesso, un anziano di 88 anni, ed un positivo, i cui sintomi si sono aggravati al punto da passare dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Sono quindi 365 i tuttora positivi nella città del Corallo, di cui 9 ospedalizzati. Risultati negativi? Tutti i tamponi effettuati sul sindaco Giovanni Palumba, tutto l'esecutivo e tutti i dirigenti comunali, dopo la positività di un assessore. Tutti potranno quindi uscire da regime di quarantena. 12 nuovi positivi anche a Del Colano, con 7 cittadini guariti. Arrivano a 479 i positivi attuali. Il sindaco Bonaiuto, ieri, ha chiesto alla Polizia Municipale maggiori controlli nel centro cittadino e nell'area di Pugliano, in modo da far rispettare rigorosamente l'enorme anticontagio. Si aggrava anche la situazione di Torre Annunziata. In 5 giorni sono stati riscontrati ben 88 nuovi positivi, compensati in parte da 50 guarigioni. Un bilancio che resta più basso rispetto agli altri comuni del Vesuviano, con 174 tuttora positivi, di cui solo 2 ricoverati presso il Covid Hospital di Bosco Trecase. Anche il sindaco di Porti, Enzo Cuomo, ieri ha fatto il punto sulla situazione epidemiologica nel suo comune. In base ai dati, aggiornati al 1 novembre, le persone attualmente positive sono 431, di cui 4 ospedalizzate. Il primo cittadino ha smentito le numerose fake news che annunciavano una futura zona rossa su Portici. Diretta su Facebook del sindaco di San Giorgio Zinno, per fare il punto della situazione. In poche settimane siamo arrivati a 547 positivi, annuncia. In una sola settimana sono stati rilevati 212 contagi. Quasi tutti sono asintomatici, solo 7, infatti, sono in regime ospedaliero. Nuovo boom di contagi, invece, a Castellammare e Istabbia. In soli 24 ore sono stati riscontrati 108 nuovi positivi, fra questi anche un bimbo di soli 20 giorni. Sono 764 i contagiati attuali. Il sindaco Gaetano Cimmino ha anche espresso il suo cordoglio per la morte di due cittadini positivi. Si tratta dell'ingegnere Peppe Bruno, stroncato al virus Salmonaldi, e del dottor Francesco Chirchia, contagiato nell'esercizio del suo lavoro di medico e dipendente ASL. In questo momento diciamo che c'è un vuoto enorme per la perdita, ma tanta, soprattutto tanta rabbia, per come sono state gestite le cose dall'inizio, veramente fino alla fine, anche dopo la morte di mio padre. Dolore e rabbia, nelle parole di Marco Caterino, il figlio di Francesco Caterino, il professore dell'Istituto di Nicola Sasso di Torre del Greco, morto di Covid all'età di 59 anni, nei giorni scorsi al Covid Hospital di Maddaloni. In collegamento con TV City, Marco racconta il calvario vissuto dal padre e dalla sua famiglia. Una tragedia che ha colpito due comunità, quella torrese e quella di Capua, dove il docente viveva. Ore di attesa e ritardi in una peregrinazio fra tre ospedali, prima quello di Caserta, poi il melorio di Santa Maria Capuavetere e infine il Covid di Maddaloni. Alla terza ambulanza mio padre è riuscito ad essere ricoverato. e mi ricordo in particolare aneddoto che ogni giorno mi tormenta, che è quello là dell'arrivo dell'ambulanza con i tre operatori, tutti e tre vestiti e con le protezioni, e loro mi danno in mano la protezione, cioè il vestito da far indossare a mio padre e mi dicono adesso andate a metterlo a tuo padre, tu e tua mamma. Quindi loro non si sono neanche avvicinati praticamente. E' stato mandato inizialmente a Caserta, dove è arrivato verso mezzogiorno. Io poi mi sono purtroppo in un momento di rabbia, mi sono rotto una mano e sono andato proprio a Caserta. Sono andato a Caserta al pronto soccorso, che al momento non era ancora totalmente chiuso per Covid, non so adesso come siano, e ho trovato, dopo due o tre ore, mio padre ancora lì nell'ambulanza fermo, perché l'ospedale non voleva accettarlo, perché a quanto pare non c'erano i posti, anche se pare che i posti ci fossero. 5 ore praticamente a Caserta, fuori l'ospedale, per poi portarlo a Santa Maria Capavetere, dove è stato praticamente altre 4-5 ore prima di essere accettato, perché l'ospedale Covid non era ancora pronto, non era ancora partito, diciamo. Infatti mio padre è stato il primo paziente dell'ospedale Melorio di Santa Maria Capavetere per Covid. Poi mio padre ha continuato a peggiorare e ha dovuto mettere il casco, diciamo, sempre per l'ossigeno, solo che lui scelse di sua iniziativa di farsi intubare, perché non sopportava la presenza del casco, e visto che Santa Maria, l'ospedale di Santa Maria Capavetere, non aveva la terapia intensiva, comunque fu trasferito a Maddaloni, all'ospedale Covid di Maddaloni, dove praticamente fu intubato e gli fu indotto il coma farmacologico, è stato, diciamo, 4-5 giorni, così, fino al suo decesso. Dopo la morte di mio padre sono morti in quella stanza anche altre 2-3 persone, sempre della stessa età. Sembra troppo strano che capiti in uno stesso ospedale, capitino 4-5 decessi in uno stesso ospedale, di persone comunque sulla cinquantina, nessuno aveva più di 60 anni, ecco, diciamo. Ci sono molti dubbi per questo protocollo, per persone che comunque si salvano, nonostante questa polmonite, anche se sono più anziani. Mio padre comunque aveva 59 anni, ma sembrava comunque ne avesse 10 in meno. Come stava? È stato un colpo troppo duro. Tanti dubbi e interrogativi sulla gestione del caso, e la voglia di far luce chiarezza su quanto è accaduto. Nessuno mi riporterà più indietro mio padre, quindi se sto facendo questo, anche con molta difficoltà, è solo per una questione di denuncia sociale, per poter, anche se non so come, magari possa essere d'aiuto ad altre famiglie che possano trovarsi o che si trovino già adesso in una situazione del genere. Purtroppo di Covid si muore e chi dice il contrario, spero che non debba mai affrontare una storia del genere. Non manca da parte di Marco un appello ai giovani, ad indossare la mascherina e a rispettare le regole. Di Covid si muore. Io faccio un appello, diciamo, a tutti i ragazzi della mia età, perché comunque io ho 26 anni e so che è difficile stare a certe restrizioni, ma per il bene nostro e delle nostre famiglie, anche se non c'è una zona rossa, non c'è un lockdown, cercate di uscire quanto meno possibile, mettere la mascherina e utilizzare tutte le protezioni. Per evitare delle storie così. I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei soggetti ritenuti gravemente indiziati di lesioni, violenza privata e distorsione aggravate dal metodo mafioso. I reati sono stati commessi nell'intento di affermare la forza e il controllo sul territorio del clan Orlando. Le indagini hanno permesso di ricostruire il coinvolgimento degli arrestati nel pestaggio di un cittadino albanese residente a Marano di Napoli. I fatti risalgono a febbraio 2018, quando la vittima, accusata da clan di aver picchiato la ex compagna, poi divenuta la donna di uno di loro, venne invitato con un escamotage all'interno di una palestra di Marano, di proprietà di uno degli indagati, ove ad attenderlo erano presenti tutti gli arrestati. Senza dargli alcuna possibilità di replica, lo aggredirono brutalmente con calci e pugni, intimandogli di andare via da Marano. Non potendo denunciare il pestaggio per paura di ulteriori ritorsioni, al fine di riacquistare la propria serenità e quella dei propri cari, fu costretto a versare un compenso in denaro, un regalo alla criminalità organizzata locale. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a non c'era inferiore circa 140 kg di sigarette di contrabbando, denunciato un quarantenne originario della provincia di Bari. In particolare, i finanzieri del gruppo di Nola, durante un controllo su strada, hanno fermato l'autovettura condotta dal contrabbandiere e hanno eseguito un rapido controllo scoprendo diverse casse di sigarette del tipo Chip White, marchio Regina. Le stesse erano abilmente occultate sotto un'infrastruttura telonata scura e coperte all'interno dell'abitacolo. Quest'ulteriore risultato è frutto dell'intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, che nella circoscrizione del gruppo di Nola si conferma particolarmente caratterizzato da traffici leciti in vari settori. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni, redazione chiocciolatvcity.it o il numero di telefono 340 65 61 484. Grazie per la cortese attenzione. Grazie per la cortese attenzione.